Nessun travestimento per Halloween, ciò che è accaduto nella notte in Piazza Cavalli era pura realtà e spaventava più della finzione. Un 32enne egiziano già pregiudicato e clandestino ha creato il panico in Piazza Cavalli. Erano i 2.30 circa quando è sbucato da una via laterale brandendo un coltello e urlando all'Akbar. Era inseguito dalla polizia che lo aveva avvistato poco prima mentre si aggirava per strada con fare sospetto. In piazza a quell'ora, oltre alla presenza di alcuni ragazzi che stavano festeggiando, c'erano anche due operatori della Geocart che stavano pulendo la strada. L'egiziano ha afferrato uno di loro, un 53enne, lo ha usato come scudo contro i poliziotti. Ha tentato di accoltellarlo a un gluteo, ma la lama è stata fermata dal portafogli che la vittima dell'aggressione aveva in tasca. Nelle fasi concitate, il dipendente della Geocart è caduto a terra riportando una ferita alla mano e la frattura di una costola. Prima ancora, il cittadino egiziano aveva ferito un poliziotto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. L'aggressore è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio, lesioni personali aggravate, violenza e resistenza pubblico ufficiale. Era già noto le forze dell'ordine. L'uomo era stato rilasciato solo qualche giorno fa dopo essere stato arrestato alla Farnesiana per aver aggredito altri agenti e danneggiato diverse auto in sosta. Era destinatario anche di un decreto di espulsione in quanto irregolare. Si tratta dello stesso straniero che aveva già provato a bruciare la corona dall'oro al monumento dei caduti alla Baia del Re. Ieri notte, mentre brandiva il coltello in centro storico a Piacenza durante i festeggiamenti di Halloween, teneva sotto la felpa anche un tappeto per la preghiera. Le indagini degli inquirenti ora si stanno concentrando sul passato dell'egiziano per capire se si sia trattato di un gesto folle, come è più probabile, o se ci sia qualche collegamento con gruppi estremisti. Grazie per la visione!